Dunque, questa mostra privata espone una serie di scatti che a primo impatto, guardandoli così senza rifletterci, nonostante si tratti di fotografie mi riportano alla mente un po' la tradizione storico-artistica, quasi si trattasse di quadri, ci vedo un po' l'impressionismo, queste macchie di colore, in realtà si tratta semplicemente di fotografie in movimento. In questo senso ritengo che siano ancora più efficaci in relazione al tema della mostra, quindi la proposta di una nuova mostra fotografica dopo un lungo periodo di chiusura post-Covid, perché l'idea di scattare fotografie in movimento è un po' antitetica e in contrasto con l'immobilità a cui siamo stati costretti. In realtà il fatto che si possano vedere queste fotografie, testimonianza del camminare, dello scattare in movimento, queste macchie di colori, a mio parere sono ancora più coerenti con il tema della mostra. Grazie.